grande doppietta di beppone marotta che dopo aver perso dibala perde anche bremer e quindi un trionfo dopo l'altro per il re del mercato intendiamoci io non voglio sminuire beppe marotta che rimane un grande dirigente ma è un buon dirigente come tanti altri ce ne sono vorrei smontare questa favoletta del dell'infallibile marotta io trovo davvero stucchevole e soprattutto non veritiera questa narrazione di marotta quasi come un essere superiore infallibile che non sbaglia mai sbaglia e come sbaglia pure lui come sbagliano tutti solo che quando sbaglia lui non si dice un bravo dirigente prima di tutto deve avere i soldi che gli mette in mano la proprietà e allora coi soldi in mano della proprietà tutti i dirigenti sono bravi perché vanno lì li mettono sul tavolo e comprano chi chi vogliono comprare e quindi in questi giorni ho sentito dire ma che colpa ne ha marotta se zang se suning se la proprietà dell'inter gli lesina i fondi per poter operare sul mercato ma questo vale anche per gli altri quando lui stava alla juventus e pagava le clausole di iguain e pianic non era bravo lui semplicemente aveva i soldi in mano andava lì ed esercitava la clausola e come andare alla posta e pagare una bolletta né più e nemmeno non c'è nessuna bravura quindi smontiamo questo mito del marotta infallibile perché non è così poi in queste due situazioni tanto quella relativa di bala quanto quella relativa a bremer ha toppato di brutto perché si è esposto troppo perché ha parlato troppo sempre con chiunque in ogni occasione ha parlato di di bala come obiettivo ha detto che si era vicini a una conclusione positiva del dell'affare e poi ha fatto più o meno la stessa cosa con bremer soprattutto ha trattato bremer per sette mesi si diceva che bremer fosse già dell'inter nel dicembre scorso ma non ha mai chiuso forte di questo accordo col giocatore che però poi è bastato che arrivasse la juve ad offrirgli due milioni in più e l'accordo si è andato a fare friggere perché perché bremer è un mercenario come è stato detto no semplicemente perché bremer la parola all'inter l'aveva data e ha aspettato l'inter per sette mesi cosa avrebbe dovuto fare bremer rischiare di rimanere bloccato un altro anno al torino perché l'inter non si decideva a chiudere e anche cairo cosa avrebbe dovuto fare accettare l'offerta al ribasso dell'inter anziché quella al rialzo della juventus insomma signori se marotta avesse parlato meno oggi nessuno potrebbe imputarli o rimproverargli alcunché bastava che avesse parlato meno bastava che si fosse esposto meno ma del resto comunicativamente marotta altro mito che vorrei falso mito che vorrei smontare perché si parla di un marotta grande comunicatore che sa sempre cosa dire quando dirlo che cosa non dire quando non dirlo e marotta a livello comunicativo si è esposto a figuracce epocali già quando stava alla juventus e ne cito una su tutte le altre quella di hernanes prende hernanes proprio dall'inter all'ultimo giorno di mercato un'operazione palesemente di ripiego perché era stato dietro mi pare in quel caso a a draxler per mesi senza riuscire a chiudere però parlando ogni due giorni dicendo che draxler stava per arrivare poi prese hernanes l'ultimo giorno di mercato per poi però dichiarare pubblicamente appena un mese dopo che aveva preso un bidone ma che comunque aveva fatto fare una minus valenza all'inter ma vi pare che un grande dirigente il dirigente di un top club possa fare dichiarazioni del genere ma vi pare normale vi pare logico e ne potrei citare tante altre insomma marotta un buon dirigente se volete un grande dirigente perché in questo momento probabilmente il migliore in italia perché quello con più esperienza ma come ce ne sono tanti altri non è l'essere superiore infallibile che si vuole dipingere che si vuole far credere quindi smettiamola con le favolette per bambini smettiamola con i falsi miti e raccontiamo ogni tanto anche la verità la verità è questa